Partiamo dal presupposto che è puriore la pace e che non morisse nessun civile. Ma secondo molti Israele dovrebbe stare ferma e aspettare che magari la distruggono. Però in tanti dimenticano che ogni giorno su Israele arrivano circa 5.000 missili. E se non fosse per lo scudo laser Iron Beam sarebbe letteralmente distrutta. Ma se da Gaza partono 5.000-6.000 razzi ogni giorno contro Israele, quando si dice Israele ha diritto di difendersi, che cosa si intende? Che deve entrare in sinagoga e pregare un ebreo? E' questo che volete? Cioè non deve fare niente. Accettare che ogni giorno arrivino 5.000 missili. Provate a casa vostra e dopo ditemi come reagireste. Alan Friedman Tutti si ricordano la scena di quando i soldati israeliani portano via i coloni da Gaza. Cioè quando Ariel Sharon nel 2005 decide di uscire da Gaza, di smantellare gli insediamenti a Gaza dei coloni e far restare addirittura i coloni, cioè degli ebrei, per portarli via. E restituisce tutto quello che si poteva restituire a Gaza. Risultato? Dopo un anno vince Hamas. Cioè un movimento che si chiama, non si chiama, movimento di resistenza islamica. Non si chiama movimento palestinese. Si chiama movimento di resistenza islamica. E quale obiettivo ha il movimento di resistenza islamica dichiarato nel proprio statuto? Abbattere Israele e, seconda cosa, respingere qualsiasi accordo di pace perché non vuole due popoli e due stati. Quindi aver lasciato libero quel territorio, quel fazzoletto di terra, come lo chiama Luca Sommi, qual è il risultato? Che un movimento terroristico e fondamentalista ha preso il sopravvento. Nel 2009, quindi quattro anni dopo la liberazione di, chiamiamola così, tra virgolette, Gaza, perché, come ho spiegato, è stata occupata da Hamas, un governo, non c'entra niente Netanyahu, un governo che era quello di Eud Barak, decide di fare un'operazione, siccome continuano ad arrivare i razzi su Israele, di fare un'operazione dentro Gaza. E succede esattamente quello che abbiamo visto adesso, cioè sparano da obiettivi civili contro Israele e quando Israele respinge quegli attacchi, risponde a quegli attacchi, che cosa succede? Quando colpisce un obiettivo civile, ovviamente viene accusato. Vedete? Perché? Perché Hamas ha un solo obiettivo, mostrare morti palestinesi che ha suscitato, morti palestinesi che in qualche modo ha provocato, all'opinione pubblica perché dica ah, guardate Israele, ha colpito degli obiettivi civili. Questa è la realtà. Dopodiché, scusate, un'ultima cosa e poi mi dà...